Cosa c'è di più bello che partire per le vacanze, o per un piccolo weekend, senza pensieri e preoccupazioni? Chiudere casa, senza le classiche chiavi. E non pensarci più perché alla sicurezza della nostra casa e della nostra famiglia ci pensa la tecnologia di videosorveglianza. Sul mercato sono disponibili soluzioni complete e innovative per la sicurezza domestica che solo qualche anno fa erano impensabili. Allarme e sistemi di sicurezza. Sistemi e videocamere che possono essere gestite da remoto, attraverso app dedicate scaricabili su tablet o smartphone, compatibili con gli assistenti vocali più conosciuti e diffusi, e consultabili in ogni minuto della giornata, anche di notte in completa nitidezza, offrendo sempre una connessione stabile e garantita. In uno studio recente condotto da Verisure è emerso che le persone hanno sempre più timore dei furti in casa, addirittura il 44% degli intervistati ha confessato che la paura più grande è proprio quella di subire un'intrusione in casa durante le festività natalizie. 7 su 10 scelgono quindi di potenziare le misure di sicurezza domestiche in vista delle festività, il 39% le ha già aumentate a ridosso. Di precedenti vacanze, il 36% lo farà in occasione delle prossime. A completare il podio dei timori, c'è la preoccupazione di lasciare il gas aperto, 12%, e la paura di un possibile cortocircuito 10,7%. Con una percentuale minore, l'agente ha anche affermato di avere la paura di ritrovarsi la propria casa occupata. A conclusione, per il 43% degli intervistati è l'allarme la misura di sicurezza più efficace, il 35% ne possiede già uno e il restante, 65% lo installerà entro l'anno. Al secondo posto, le persone ritengono importanti in egal misura le grate alle finestre, 14,5%, e le porte blindate, 14,5%, mentre al terzo posto ci sono le telecamere di videosorveglianza, 14%, in crescita rispetto al 2020. Innovazioni nel campo della videosorveglianza smart Le aziende dedicate al settore della videosorveglianza hanno dimostrato un impegno davvero costante e innovativo sviluppando prodotti dedicati per case sempre più smart e protette. Ecco alcune proposte. Arlo, Arlo Pro 4 Arlo Pro 4 è l'ultima novità presentata nel campo delle videocamere. 100% senza fili, installabile autonomamente, con una risoluzione video 2K HDR, e connettività diretta al Wi-Fi, senza la necessità di munirsi di smart tab. Arlo Pro 4 è in grado di cogliere i minimi particolari anche di notte, grazie a un faretto integrato per scoraggiare visitatori indesiderati. Arlo Pro 4 è compatibile con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant. Prezzo consigliato al pubblico di 249,99€. El.mo. Sistemi di sicurezza per la casa e sistemi El.mo. Rappresentano un vero e proprio ecosistema di dispositivi altamente performanti che agiscono in sinergia per assicurare una sicurezza completa della casa. Grazie alla funzione di video verifica InstaVision è possibile ricevere le notifiche di allarme in tempo reale sullo smartphone, relativamente a ciascuno dei sistemi di sicurezza e di verificare subito la situazione. Non appena si verifica una situazione di pericolo, la funzione di video verifica InstaVision mostra direttamente sullo smartphone le immagini video in diretta con la possibilità di intervenire in modo repentino in caso di intrusione, alertando direttamente anche le forze dell'ordine. La registrazione delle immagini non avviene su server di terze parti, bensì direttamente sui dispositivi di registrazione privati, ottenendo un duplice vantaggio. L'azzeramento dei rischi di furti di dati personali e l'abbattimento dei tempi di risposta dell'intero sistema. In Mu, Night 4K Ultra HD Full Color Telecamera di sicurezza da esterno con tecnologia Full Color. La telecamera, dal design innovativo ed elegante, supporta quattro modalità di visione notturna intelligente per una massima nitidezza anche al buio. Principali caratteristiche tecniche 4K UHD che equivalgono a 8 MP, 3264 x 2448, AI, intelligenza artificiale, rilevamento intrusione, accurato, con riconoscimento di persone, veicoli virgola barra animali o semplice movimento, full color visione notturna a colori, Wi-Fi 6, 2 minore di DOD. Maggiore di 4GHZ e AMP, 5GHZ, certificazione IP66, utilizzabile in qualsiasi ambiente esterno e in diverse condizioni atmosferiche, sirene da 110 dB Faretto, deterrenza attiva per le visite indesiderate. Il dispositivo alla certificazione ISO 27001 di protezione dei dati e conformità al GDPR, tutti i dati degli utenti sono crittografati. Da ETLS quando si accede al cloud e dispositivi e app si collegano automaticamente al server più vicino, offrendo una connessione stabile e protetta. Senia Security, sistema di protezione per la casa Senia Security sviluppa e produce soluzioni altamente tecnologiche, per proteggere la casa e la famiglia da eventuali intrusioni indesiderate. Il sistema Senia, basato su un'unica potente centrale chiamata Lares 4.0, è così evoluto da poter gestire tutta la sfera di sicurezza e tutte le automazioni domotiche. Questo permette di avere una casa completamente sicura e confortevole. È possibile controllare ogni automatismo e ogni ambiente di casa in modo semplice e veloce dal proprio smartphone o tablet, grazie. Alla Lares 4.0, disponibile gratuitamente per ogni cliente che installa in casa una centrale Senia. Con un'unica app si possono infatti gestire sicurezza, domotica e videoverifica. Nello specifico, allarme, sensori, porte e cancelli, temperature, luci, avvolgibili, irrigazione del giardino, telecamere, e tutto ciò che si desidera. TP-Link, TAPO C310 videocamera di sorveglianza da esterno che arricchisce la gamma entry-level aziendale, unendosi all'ormai noto modello da interno TAPO C200. Pensata per tenere sotto controllo la casa giorno e notte, TAPO C310 ha un look moderno e minimale, cattura immagini nitide e cristalline, e può contare su diverse funzionalità avanzate, oltre a una facilità di installazione. La compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google rendono l'utilizzo di questa videocamera ancora più intuitivo. Grazie ai sensori di movimento, il dispositivo rileva presenze indesiderate in ogni momento della giornata e invia automaticamente notifiche all'app TAPO dedicata. TAPO C310 è certificata IP66, per resistere senza problemi a tutte le intemperie dell'ambiente esterno. Funziona tramite connessione cablata o una comune rete Wi-Fi. Il dialogo con l'app TAPO è costante grazie agli alert, alla possibilità di vedere il video live in streaming, ma anche di comunicare. In realtà in tramite l'impianto audio bidirezionale integrato, utile per dialogare a distanza con visitatori, amici, corrieri eccetera. Punto verisure, telecamere di controllo intelligente dettagli nitidi, intelligenza artificiale, privacy protetta, intervento in caso di pericolo, installazione e manutenzione professionali sono alcuni dei tanti vantaggi offerti dai sistemi con telecamere per esterno e interno di verisure. Firmate ARLO sono integrate al sistema di allarme e connesse H24 alla centrale operativa verisure. Tramite questi sistemi è possibile controllare la casa da app in full HD e parlare con ospiti fuori la porta in HQ, spaventare gli intrusi con sirena e riflettore integrati e rivedere i video dei giorni precedenti archiviati in cloud protetto e limitato, gratuito con verisure. In caso di scatto d'allarme, la centrale operativa verifica i video live, scarta i falsi allarmi e interviene allertando le forze dell'ordine. La telecamera verisure, ARLO Essential 40, è offerta con un'aggiunta di soli 49 euro al kit base attualmente in offerta a 299 euro.